Io appunto volevo cogliere l'occasione nella quale noi abbiamo inaugurato la vasca nativa per parlare di una pratica che deve essere diffusa con forza nei centri nascita e quella di favorire il pelle a pelle fra la madre e il bambino al momento della nascita. Noi lo stiamo già facendo da molto tempo, stiamo facendolo anche con i neonati dal taglio cesareo, lo stiamo facendo con il papà laddove la mamma non ha la possibilità di farlo per rafforzare e promuovere questa pratica in collaborazione con l'associazione Cuore di Maglia doneremo dal prossimo mese a tutti i nati una coperta che è un continuo con la situazione endoterina per favorire appunto il contatto e il momento del riconoscimento tra la madre e il bambino e il bambino verrà a volte in questa coperta prodotta in maniera artigianale dalle associate dell'associazione Cuore di Maglia e doneremo a tutte le mamme un pensiero degli buoiere, poi è un altro segnato di quella che è la nascita dolce e appunto donando appunto questa pergamena è firmata dall'ostetrica che ha favorito il pelle a pelle questo momento di riconoscimento importante nel momento della nascita.